Il caro energia, l'aumento delle materie prime, l'inflazione e il calo del potere d'acquisto sono tutti problemi determinati da questioni belliche e geopolitiche. Il caro dei carburanti è una conseguenza che in Italia abbiamo potuto notare già dalla seconda metà del 2021 e oggi, a seguito di alcune segnalazioni arrivate in merito alla differenza del costo del metano tra i diversi distributori d'Italia, siamo andati ad approfondire la questione in una delle numerose stazioni di servizio di Pesaro che vendono proprio questo carburante. 3,19 euro al chilo segna lo schermo a LED. La domanda che ci è giunta dal telespettatore era proprio questa. Perché il caro del metano interessa principalmente la zona pesarese, visto che in altre località come Rimini, Bolzano o Spoleto si arriva intorno a 1,80 euro al chilo? A fare la differenza è il tipo di contratto che si è stipulato con i fornitori, dunque variabile o fisso. La stazione di servizio pesarese in questione, avviata circa sei anni fa, si ritrova da quasi un paio d'anni con un contratto variabile, dunque con un prezzo di acquisto che dipende dalle variazioni del mercato. Attualmente sono costretti a tenere dei prezzi di vendita molto alti, visto che l'acquisto al cubo dello stesso carburante gli costa circa 2 euro. Con i costi alle stelle di fatto mette questa stazione di servizio con le spalle al muro per quanto riguarda la vendita del metano, ma per loro fortuna non sono monocarburanti, disponendo anche della vendita di benzina e diesel, oltre ad avere un bar tabaccheria. Chi ha scelto invece un contratto fisso nelle forniture, al posto di quella variabile, gli permette ora di vendere il carburante a meno di 2 euro al chilo, visto che il prezzo dipende dalle forniture ancorate ai costi precedenti rispetto a quelli attuali. Il problema però incomberà anche per loro, visto che tra qualche mese, quando gli scadrà il contratto fisso e in tutta Italia non sarà possibile rinnovare, le stazioni monocarburanti saranno costrette a chiudere, non riuscendo a recuperare le perdite con altri servizi offerti. Per benzina e diesel invece un discorso a parte, i costi non sono dettati da alcun tipo e forma di contratto siglato, ma bensì dalla vendita che il camion di rifornimento impone periodicamente alle stazioni di servizio. Quella legata al metano è una situazione che, a detta del gestore della stazione di servizio con il quale abbiamo chiacchierato, potrebbe cambiare da un giorno all'altro, senza dare certezze né ai proprietari dei distributori di carburante né quantomeno ai proprietari dei mezzi.